Il secondo giorno del regatta della tappa 2, sono stati 48 ore molto veloci, una media 22-23 nodi e volt speed, molto umido, tanta acqua in coperta e sotto coperta, fortunatamente stiamo tenendo il passo con la flotta e penso che ci siano altre 24 ore in queste condizioni. No, è una tappa molto lunga, il secondo giorno ci mancano altri 20 giorni, è una tappa dove sicuramente continueremo a parare per trovare la barca sempre più veloce, anche il livello nuovo e anche la messa a punta da barca.